Si è benvenuto in questo nuovo video di Brawl Stars Il salone di Brawl Stars è un avviso importante Raga Vi devo dire una cosa Perchè vi disiscrivete? Io Volevo tanti iscritti Tanti no Però raga Quando io ero arrivato ai 50 iscritti Faccio uno speciale Però 3 di voi vi siete disiscritti Quindi andiamo su Youtube E vi faccio vedere Quanti iscritti ho Ecco raga 47 iscritti Ora andiamo su iscrizioni Raga Voi da semplici iscritti Quanti siete diventati amici Come tipo Così c'è Pipistrello Dark Immortal Fervor Fletz Poi Gaber Checo Giacco Romi Domi Alex 10 Immersere Il Marche Italian Army Checo Giacco Gli ho detto Aspettate Non mi ricordo Questo è un altro Poi Lodi Luca Wong Poi Mo si se fea Mo si se fea Mo si se fea Mortisti Youtube Poi Proving 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 2.0 Ufficial Poi Lider Tricky RXR Quish Canale Samsung Pro Santiago Pro 3 Facina Che solide San Omega Poi XGamer Blades Yellowblock E XRedm X Voi siete tutti i miei amici Raga Perché vi iscrivete al mio canale Vi voglio bene Con questo video è tutto Ciao